Ups a tutti, miei cari upsine, upsine, come, 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 come state? Spero bene, dai, spero veramente, veramente bene, dai, raccontatemi un po' come state, fatemi sapere un po' come passate queste giornate, dai, tenetemi aggiornato. Allora, oggi sono qui, solo per voi ovviamente, per registrare questo video dove, cioè diciamo un video di rilassamento guidato, un video dove ti faccio fare qualcosa, tu segui le mie istruzioni, segui le mie istruzioni per cercare di addormentarti. Ci possiamo provare, che ne dite? Che ne dite, che ne dite, che ne dite? Ci vogliamo provare? Allora, indossa un paio di cuffi o auricolari, stenditi sul tuo letto e cerca di dormire, va bene? Proviamoci, vediamo che succede. Allora, questi esercizietti che ti farò fare servono anche un po' per mantenerti concentrato al video. Quindi, per prima cosa, adesso io con questo pennello te lo passerò sul viso e tu mi dovrai dire quante volte te l'ho passato, appunto. Semplice, semplice. Cominciamo però, va bene? Lo faccio prima su questo lato, il sinistro, e poi sul destro. Quindi, cominciamo. Perfetto. Quante volte erano? Perfetto. Adesso Io già dormo. Lo faccio sul lato sinistro, va bene? Quindi anche qua. Dimmi poi quante volte lo faccio. Ok, quante volte lo faccio. Perfetto. Questo esercizietto è stato carino, magari lo rivediamo dopo il pennello. Adesso facciamo una cosa simile. Adesso facciamo una cosa simile. Molto, 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 molto simile. Adesso io ti farò qualche carezza, così. Le carezze, un po' così. Tu mi dovrai dire per quanti secondi sono stato ad accarezzarti il viso, sia con una mano che con l'altra, va bene? Che con l'altra. Proviamo. Sei pronto? Perfetto. Iniziamo di qua. Via. Quanti secondi sono stato ad accarezzarti il viso, sia con una mano che con l'altra, sia 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 con l'altra. Perfetto. 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 Tutto a posto? Tutto a posto? Per qualsiasi problema. Ma fammelo sapere, va bene? Ok. Adesso, altro esercizietto molto, molto, molto semplice. Che numero è? Perfetto. Che numero è? Perfetto. Che numero è? Perfetto. Questo. perfetto questo perfetto questo ok questo ok questo ok questo perfetto perfetto dai che sei veramente 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 bravissimo o bravissima allora adesso però facciamo un trigger perché dobbiamo fare anche dei trigger quindi adesso ho qui questa spugnetta abbinata con lo sfondo io cosa farò? la spremerò farò così e tu mi dovrai dire quante volte lo faccio da quando ti dico via a quando ti dico stop semplice no? semplice 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 cominciamo dai iniziamo adesso so stop quanti ne ho fatti perfetto perfetto tanta roba ok allora adesso secondo trigger che ho scelto di fare ho qui questo cubetto di legno che io adoro vi giuro lo adoro e farò semplicemente così anche qua mi dovete contare per quanti secondi faccio questo video cioè questo video lo sto dicendo questo sono scusate aiuto e vabbè dai è tardi dobbiamo andare a dormire ok quindi 3, 2, 1 via ok 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 stop per quanti secondi ho riprodotto il suono va bene va bene perfetto ma ti piacciono gli hands sound perché non li porto mai ma se ti piacciono come suono potrei potrei farci un video adesso l'ultimo trigger che voglio fare è questo dell'acqua e voglio che conti quanti spruzzi faccio lo faremo prima a destra di là e poi a sinistra ok via quanti erano perfetto adesso appunto lo facciamo qua a sinistra quindi perfetto quanti erano ok ok esatto adesso appunto voglio chiederti qualche domandina veloce proprio qualche domandina veloce 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 appunto prima di tutto ti chiedo appunto di dirmi qua sotto un commento come ti senti come passi le tue giornate cosa ti piace fare parlami un po' di te in generale dai sono veramente veramente curioso di conoscerti un pochino di più poi voglio sapere qual è la tua serie tv preferita qual è la tua serie tv preferita qual è il tuo colore preferito o più di un colore preferito perché potresti avere più di un colore preferito poi cos'altro potresti dirmi qual è la tua stagione preferita tra primavera estate autunno e inferno primavera ok e niente dai fammi sapere un po' qualcosa su di te diciamo adesso una delle ultime cose che farò userò questa pacchetta e ti farò un po' di tracing sul contorno del video capito quindi tracing sul contorno del viso ok quindi sei pronto sei pronta iniziamo con un contorno generale 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 ok ok adesso contorniamo gli occhi Perfetto, il naso, perfetto, la bocca, la bocca, perfetto, le guache, le guache, una e due, le sopracciglia, le sopracciglia, le sopracciglia, le sopracciglia, ok, adesso facciamo il mento qua sotto, 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 il mento, la fronte qua sopra, proprio in alto, in alto, in alto, perfetto, perfetto, posiamo la bacchetta e adesso inizio, diciamo, ad indirizzarti, ad indirizzarti per solo andare a dormire, perché lo scopo è appunto riuscire a farti addormentare, quindi ti faccio qualche altra carezza, ti dico, cucù, cucù, adesso tocca a te, adesso tocca a te, iscriviti al canale se sei nuovo per entrare a far parte della UPS community e diventare un UPSina se sei un maschietto, invece diventare un UPSina se sei una femminoccia. Sarebbe veramente, veramente bello riuscire ad allargare la nostra community, la nostra grande famiglia via attuale, perché mi piacerebbe essere il più possibile, ho quasi raggiunto duemila iscritti, quindi saranno tu quasi duemila persone che mi apprezzano e vi ringrazio a tutti quanti, veramente. Poi lasciate un bel like, tu in particolare devi lasciare un bel like se questo video ti è piaciuto e commentare con un po' quello che ti ho chiesto oggi nel corso del video, fammi sapere appunto qualcosa su di te, va bene? Il video di oggi finisce qui, ma se tu vuoi restare ancora insieme a me, cosa che però non dovresti fare perché è il momento di andare a dormire, io ti lascio di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist e qua sul basso il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video tu vorrai, va bene? Così puoi rilassarti ancora di più. Sì, 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 ok. E nulla, ti auguro una buonanotte, una bellissima notte, spero che tu riuscirai a dormire veramente veramente bene, dai. Ti mando un grandissimo bacio e quindi ti auguro ancora buonanotte, 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 buonanotte.